Mimmo Sabatelli, nuova convocazione azzurra, questa volta con la nazionale femminile Under 20. Sì, un'altra convocazione nazionale, sicuramente in una veste diversa. Andare a far parte dello staff degli europei con l'Under 20 femminile è sicuramente una gioia incredibile, è una cosa che veramente mi riempie d'orgoglio e che mi riempie anche di responsabilità, però sicuramente c'è una gioia incredibile per questa convocazione. Il Molise ha effettivamente dei numeri piccoli rispetto alle altre realtà d'Italia, però c'è tanto Molise in giro per l'Italia e anche nello staff azzurro. Sì, come hai detto tu, sicuramente siamo in una regione piccola, come abbiamo detto più volte, però c'è anche la possibilità di lavorare molto di qualità. Sicuramente ci sono state anche in passato delle grandi soddisfazioni per il Molise, con dei ragazzi convocati nelle giovanili con lo staff della nazionale, visionati da Andrea Capobianco e Antonio Bocchino. Sicuramente ci sono state altre soddisfazioni con Gian Giacomo per quanto riguarda negli ultimi anni, almeno parlo, che ha fatto parte di una squadra di Serie A. Quindi sicuramente il lavoro che si sta facendo in Molise è un lavoro importante. Io ringrazio sicuramente la federazione per questo incarico che mi ha dato, ringrazio Andrea Capobianco, ringrazio Massimo Riga che sarà il mio capo nello staff. Ripeto, sicuramente questa deve dare la convinzione a tutti noi che il lavoro, il lavoro fatto in una determinata maniera, paga sempre. Ripeto, lo stiamo vedendo perché negli ultimi anni sicuramente il Molise si sta togliendo diverse soddisfazioni. Solo un'ultima domanda, quali gli obiettivi dell'Italia in questi europei di Portogallo? Sicuramente quello di ben figurare. Io credo che è palese che negli ultimi anni, soprattutto con la medaglia d'oro che ha raggiunto Andrea a Mannheim, che è un risultato che non avveniva da tanti anni, l'anno scorso è stato bissato con una medaglia di bronzo, io credo che l'Italia a livello giovanile, ma anche a livello senior, stia facendo grandissime cose. Quindi sicuramente è quello di fare il nostro meglio, poi vediamo dove si può arrivare. Però credo che ci possiamo togliere diverse soddisfazioni e quindi noi lavoriamo, noi lavoriamo, andiamo con la convinzione di dare il massimo, con la consapevolezza che sarà difficile perché incontriamo sicuramente roster importanti, però io credo che alla fine tireremo le somme. L'importante è dare sempre il massimo e questo è l'obiettivo nostro. Grazie.